Prova a scrivere una lettera d'amore. Vediamo che cosa ti viene fuori. Cerca di essere un po' romantico. Eh? Ok, ci proverò. E proviamoci, dai! Enzo, questa poesia sparca. Sentiamo un po'. Bella lì. Eh? Il saluto. Bella lì. Vabbè, però sì. Come bella lì? Dammi un po' il foglio che cerchiamo di tradurre. Bella lì. Cara. Virgola. All'inizio incontrarti è stato uno sbatti? Dire... Quando ti incontrai? Quando ti incontrai? Non è stato facile avvicinarti. Ah, hai visto che è poco presibile. Ma poi ti sei presa bene per me. Che significa? Cosa volevi dire? Ti sei presa bene per me? Ti sentiva a suo agio a parlare con me. Gli sei piaciuto, volevi dire? Sono piaciuto. Eh, allora diciamolo. Ma parlate così voi oggi? Eh, sì. E ci sono proprio rimasto sotto. Vuol dire che mi è piaciuta anche lei a me. Tu ci stai proprio dentro. Dentro cosa? L'ultimo è un po' inquietante, l'ultima frase, eh? Sei da paura. Cioè ti spaventi quando la vedi? Struccata, sei da paura. No, vuol dire sei bellissima. Ah, per concludere un bacio. Come lo scriveresti? Sì, sì, ce lo mettiamo. Smac. 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 A bacio che ti piace. Vabbè, smac. Ho cercato di tirarti fuori quel briciolo di romanticismo che dentro di te te la sei cavicchiata. Però adesso voglio farti vedere tutto quello che tua mamma ha fatto per te. Adesso inizia lo sbatti. Vieni. Sbattoli.